Più che una scommessa, Daniele Napoletano rappresenta in casa San Giovannese la possibile scoperta tecnica per la nuova stagione di Serie D. Un po' come accadde nel lontano 2002-2003 a Moscardelli, quando il bomber, attualmente all'Arezzo, venne prelevato dall'eccellenza laziale. I gironi in programma per oggi sono stati rimandati ai prossimi giorni e non si avranno ufficialità, probabilmente fino a quando non diverranno ufficiali ripescaggi Lega Pro. E intanto il bomber dei 43 gol nel Treppini Matese abbassa l'asticella personale alla doppia cifra per la nuova stagione. Prima di tutto sono contento di essere qui con la San Giovannese, mi trovo bene con il mister, il prof e tutti i giocatori, sono delle bravissime persone. Non è una responsabilità, mi impegnerò al massimo e cercherò di dare tutto per questa maglia. Impressioni del gruppo? Come ho detto sono tutti bravissimi ragazzi, mi trovo molto bene qui e sto recuperando un piccolo infortunio. 43 gol, insomma sarebbe un bottino financo eccessivo. Quale sarebbe il tuo obiettivo? Arrivare in doppia cifra nel caso? Sì, sì, quello sarebbe il mio obiettivo. Non faccio promesse perché ogni promessa è un debito. L'unica promessa che posso fare è che mi impegnerò al massimo. Grazie. 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 Grazie.